Ciao a tutti, Alessandro Xperia di Mili, che stiamo verniciando la parte anteriore delle nostre pene, perché abbiamo già dato due belle mani di bianco, in maniera che siano belle trottette e bianche, così d'estate si stanno davanti meno, è vero le nostre pene stanno meglio, le aiuteremo a condizionare l'aria, a rinfrescare. Adesso invece passiamo con dei bellissimi colori, appunto, nella parte davanti. Cominciamo a leggere qua, io, che bello, e che colore sta prendendo papà? Viola! Wow, è bellissimo, Viola, delle ragazze, perché voi siete delle bellissime ragazze, guarda che bel colore che metteremo nelle nostre arme. Ma ci vuole, ma sai. No, chi più durerà l'arme oggi? Che farà di soli? Te, te, te. Ciao mamma, che farai? Ciao mamma, ciao mamma, ciao mamma, ciao mamma, ciao mamma, ciao mamma, Bye bye. Bye. Si gira piano. E papà è felicissimo, vero, averci qua? Si. Guarda, guarda. Ok, allora. Che buono. Che vuole, a posto, a posto. It's good trabajando. Chiudo sarà questo bellissimo colore? Bellu. Allora state in là per il pleasure, eh? Bellu, blu. Buon carativelo. Qua, cosa? Vabbè il blu. Puoi il blu, brava, brava. Mane pranka col pannello. Anche io! Anche tu! Lu, guarda qui! Adesso ricarichiamo quello. È una specie di piper. Come le forme geometriche, perché loro possano riconoscere... Vai, fai un po' di verde qua su, qua su, qua su. Perché loro possano riconoscere la loro casina e differenziarla da tutte quelle a fianco. Loro imparano a capire quali colori e quali forme ci sono nella loro. In maniera che dormino sempre nella stessa e non sbaglino. È vero? Perché se sbagliano per loro diventa un problema perché non le vogliono poi in un'altra famiglia. Che gli toccano. Eh, li toccano e ci pitturiano. Invece se noi le facciamo con dei colori belli e con delle forme che loro riconoscano, siamo fortunati e belli. Invece se hai vedere, c'è una cosa . Adesso tocca a Maddalena a pitturare... Andiamo su qua su questa fianco. Qua su, qua su, qua su, qua su. Very good! Facciamo così, guarda. Telo a te, guarda. Molti. In tutta la maniera. Wow! Tac! Che bello! Adesso che coloro aggiungiamo a skies? Molto! Aspetta, 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 andiamo con il Viola, tocca a te, qua, 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 va andare su giallo, bravissimo, bello, stop, stop.